Come inizia il secondo capitolo dei Promessi Sposi? Nel secondo libro dei Promessi Sposi abbiamo un vero e proprio simbolo. Mazzoni mette a confronto la notte tranquilla di un comandante che aveva preparato tutto per la sua battaglia e la notte tormentata di Don Abbondio, molto pauroso, che dovrà affrontare il giorno successivo Renzo, che era un tipo tranquillo, ma, come tutti nel 1600, tirava armato. Cosa farà? Cosa deciderà di fare Don Abbondio, che non era nato con un cuore di leone? Lo vedremo nei prossimi video. Ciao, al prossimo video! Ciao, al prossimo video!